Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, cantiere per il giubileo a piazza dei 500. Da lunedì prossimo scattano modifiche alla viabilità su via Giolitti e sulle strade vicine, così come ci saranno delle novità per il cavoline a bus sulla piazza. Il tratto di via Giolitti tra via Rattazzi e piazza dei 500 da lunedì sarà chiuso al traffico privato. Nuove discipline di traffico poi, tra le altre, scatteranno su via Gioberti, piazza Manfredo Fanti, piazza di Santa Maria Maggiore, via Farini e via Amendola. Modifica anche per il capolinea bus su piazza dei 500. Tutti i dettagli sono su romamobilita.it